Che ve lo diciamo a fare? Siamo in compagnia di un pezzo della Rimbam Band, Raffaello e Renato, perché stasera parte un nuovo format in tempo reale, commentate le news. Commentiamo le notizie della settimana, quelle più curiose, quelle che maggiormente ci hanno ispirato, con dei mini numeri, con delle mini gag comico musicali, che hanno il sapore dell'improvvisazione, perché l'abbiamo creato ovviamente in tempo reale. Quindi insomma prendiamo... Vedo lui a fare Trump. Bravo, bravo. Hai già capito. Lui ha preso un personaggio. Ci sarà un Donald Trump che proverà a scrollarsi di dosso queste accuse di sessismo che gli sono state rivolte alla sua maniera, ci sarà una statua della libertà che lui si porta ovunque, ci sarà una parodia, una presa in giro al mondo dell'Isis che ammira... No, attenzione, quella no. Eh vabbè. Arriva sul Teatro Trette perché lo fate al Teatro Trette, arriva una bomba. No vabbè, però... Lascia, lascia. No, no, no. Apple Pan. Ci sarà anche questo, ahimè. Quindi insomma proviamo a esorcizzare il mondo folle in cui viviamo, insomma raccontando le notizie e cercando di, insomma, di riderci su. Nazionali, internazionali, senza sconti per nessuno. Nazionali e internazionali. Soprattutto internazionali. Poi vabbè, le notizie locali, quelle vabbè... Le lasciamo al Fatto Quotidiano. Vabbè, 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 vabbè. Al Fatto Quotidiano italiano, ho detto il Fatto Quotidiano. Però ci fa piacere, ci fa piacere, l'Apsus va bene. Ma quindi tutti giovedì, tutti giovedì, in diretta Facebook alle 21.15. Per sei giovedì? Per sei giovedì in fila. Sì, sì, perché poi partiamo in tour e diventa un delirio riuscire a dare continuità. In realtà saremo già in tour, però i giovedì siamo riusciti a tenerli liberi. Volevi tenere proprio libero completamente? No, no. No, non potevamo ripostare. Non è proprio rimbambenti. Sennò non è, non siamo gli autolesionisti di sempre. In diretta dal Teatro Traetta di Bitonto, dove ci sarà anche il pubblico. Gli sventurati che avranno deciso di stare con voi. Pubblico buttato sul palco con noi, a giocare con noi, a prendere in giro il mondo pazzo che viviamo. A stare, diciamo, con noi, con la rimbambente. E quindi si può vedere sulla vostra pagina Facebook. Quindi, insomma, se non siete iscritti mettete un like adesso, adesso. No, no. Se siete su Facebook ora, fatelo. Rimbambando, mi raccomando, perché molti scrivono rimbambente. E non lo trovi, non esiste. Una trasmissione sporca, perché è quasi tutto improvvisato. Quindi sporca, sporca, ma diciamo che racconterà comunque la nostra cifra stilistica, il nostro stile e il nostro modo di vedere, insomma, lo spettacolo, la creatività. E se ve la siete persi, in diretta c'è sempre poi su YouTube. La prendete, la mettete là, ovviamente. Quindi non se lo può rivedere. Sarà pubblicata praticamente alla fine della puntata. Pubblicheremo immediatamente la puntata su YouTube, sul nostro canale YouTube. Sempre imbambando, mi raccomando. Ecco. Vabbè, qual è la notizia che adesso proprio vi viene in mente? Adesso, l'ho appena letta, cioè Dario Fo. Quindi facciamo invece un finale serio, lo dedichiamo a lui. Ecco, sì. Il mistero buffo, che non tutti sanno ci cos'è. Vabbè, però, 90 anni, premio Nobel, ci ha inorgogliti di essere italiani, quindi... Ciao Dario. Ciao Dario.